Questo è un bonsai, questo sono io e questo, AIDS, è qualcosa che fa sempre meno paura. Bene, direte voi. Eh no, non bene. Perché ancora oggi l'80% dei giovani ha rapporti sessuali non protetti e il risultato è che ogni due ore una persona contrae il virus dell'AIDS. Il 3, il 4 e il 5 aprile i bonsai di Unlides ti aspettano in piazza per sostenere l'informazione e la prevenzione. Perché l'informazione e la prevenzione, se vogliamo un futuro senza AIDS, non vanno fermate, vanno fatte crescere. Ci vediamo in piazza.